Quando questa risposta non ci sarà, noi continueremo a chiedere in un modo quasi martellante il perché queste risposte non vengono date. Ha ripetuto le sue 13 domande allo Stato italiano, ancora senza risposta dopo 26 anni, Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, per la prima volta alla Commissione regionale antimafia a Palermo, facendo nomi e cognomi, soprattutto investigatori e giudici, che allora gestirono il caso. In un giorno simbolico, la vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Se c'è una procura che ha lavorato in un momento in cui sono state fatte certe cose, queste cose è il risultato che sono state fatte purtroppo male o non fatte. Addirittura è giusto che quelle persone rendino conto. Io lo trovo assolutamente normale e degno di un paese di questo nome. È la prima di una serie di audizioni per la Commissione siciliana, che non ha poteri giudiziari, ma le motivazioni della sentenza Borsellino-Quatera, ha spiegato il Presidente Fava, hanno un cuore malato, il coinvolgimento del SISDE. Verranno sentiti anche uomini dei servizi e magistrati. A un rispetto del compito di un'indagine politica, su come sia stato possibile che alcuni meccanismi istituzionali siano stati travisati nel loro significato, alcune norme di garanzia siano state sistematicamente violate. dobbiamo capire come tutto questo sia stato possibile interrogando anche la memoria istituzionale, la memoria processuale, la memoria documentale dei servizi di intelligence.